L'ho restituito, ho restituito anche la forca ed ho preso a noleggio sempre una macchina e una palagommata quindi eravamo rimasti, se non mi sbaglio, che dovevamo prendere la palagommata e la macchina e portarle, la palagommata la porto con il rimorchio e il camion perché se no a 20 all'ora non ce la facciamo più a fare anche le altre cose quindi la porto con il camion e poi c'eravamo rimasti che dovevo, stavo tagliando la colza sul campo 5 no sul campo 4 o 5 non mi ricordo, sul campo 5 e ho coltivato il campo 4 quindi dobbiamo seminare il campo 4, coltivare il campo 5, dobbiamo fare un po' di roba, portare tutto a casa perché praticamente la scorsa puntata ho portato solamente le cose a casa che è stato anche un casino portare tutta quella roba a casa perché poi i grandi sacchi dei semi, due me ne sono rovesciati quindi ne ho portati a casa due, uno adesso ne ho presi altri due quindi dovremmo essere a posto con quei tre sacchi poi al massimo con la macchina vado giù e ne prendo altri non c'è problema quindi le cose sono quelle e basta adesso aspettiamo che entriamo nel gioco speriamo che ho salvato tutto perché non mi ricordo se ho salvato tutto non mi ricordo se ho salvato adesso devo vedere sono a casa vediamo si ho salvato perché se quello aveva finito dovrei avere ok si ho salvato facciamo subito questa roba prendiamo il camion non mi ricordo non mi ricordo prendiamo il nostro rimorchio ci serve un trattore prendiamo questo lasciamo il coso con le maniere forti aspetta che prendiamo bene questo e lo vado a portare da una parte un po' più sicura allora mi metto un attimo qua e dormo che così è mattina e posso fare quello che voglio dormire undici ore ok facciamo 13 ore 22 23 0 2 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 e mezza è tardi cazzo 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 tredici ore 12 ne dovevo dormire allora quindi abbiamo tirato giù la roba prendiamo ovviamente l'unico posto dove potevo metterlo l'ho messo nel posto sbagliato perchè lì devo prendere la metto qui prendiamo la seminatrice la portiamo a riempire basta un basta un robo ok bene meglio allora ci mettiamo cambiamo roba ci mettiamo il l'orso mettiamolo per aio prendiamo l'altro John Deere assumo per aio togliamo da qua ok la rimettiamo sul carrellino da lama forse ce la facciamo entro domani non si è attaccato ok ok è ho Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu tu tu, tu tu tu, andiamo a negozio a prendere la roba che ti serve. Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Così. Così. Faccio un viaggio solo. No. Devo farmi un viaggio. Ok. 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 Grazie. 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 Raga. Finisco qui perché sono stanco. Ma ci sono ci sono ci sono ci sono quindi salva partita. esci dalla partita e bye bye